... ... ... ... ... ... ... Dottor Marzullo, una foto con la Boschi? No, allora... Marzullo, vai la foto con la Boschi. Ok, avete la gallina di fronte? Non c'è Maria qui. Grazie. Maneria, qui? Siamo questa parte? Maneria, qui? Sì. No, Maria. Maneria, che dico? Maneria, sorridi che sei da più bene che c'è da più. Guarda, mi parla qui. Grazie. Maneria, Maneria, Maneria a sinistra. Sare qui a sinistra. Grazie. Grazie. Che siete bravi. Grazie. 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 Grazie.